Vi saluto immediatamente, stasera abbiamo assistito alla storia del calcio italiano. Infatti è successo quello che nessuno di noi avrebbe voluto da tifosi dell'Italia, ovvero la nostra nazionale per la seconda volta consecutivamente non si è qualificata al mondiale. Non riesco a non essere arrabbiato perché è inaccettabile una cosa del genere. Pensare che sette mesi fa, lo scorso luglio, eravamo campioni d'Europa e adesso non ci qualifichiamo nemmeno al mondiale perché perdiamo nei minuti di recupero contro la Macedonia del Nord. Innanzitutto devo dire, complementare la Macedonia del Nord perché per come abbiamo giocato la Macedonia del Nord è stata superiore a noi, cosa che è assurda da pensare perché comunque l'Italia dal punto di vista di Rosa era superiore. era superiore e loro con la loro prima, con la loro unica azione veramente pericolosa hanno segnalato. Ma è quello che ci meritiamo perché la nostra nazionale si era montata alla testa. Si era montata alla testa perché siamo arrivati a giocarci uno spareggio mondiale perché dopo aver vinto l'europeo abbiamo segnalato tutte le partite possibili, abbiamo sbagliato rigori su rigori. Ma stasera la cosa assurda è che siamo stati veramente sembrava la Macedonia del Nord che non aveva pressioni, a casa nostra abbiamo perso contro la Macedonia del Nord. Questa è una cosa assurda. Adesso entriamo un po' più nel dettaglio da analizzando i calcedori dell'Italia. E beh, Donnarumma è stato chiamato poche volte in causa. L'unica azione pericolosa è stato appunto il gol della Macedonia del Nord che secondo me era da annullare. Non perché il gol di questo italiano è quello di portare i supponenti alla partita ma perché il giocatore della Macedonia del Nord ovvero 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 la il giocatore della Macedonia del Nord Traikowski Ezz Ezz Palermo che ha giocato in quello stadio per parecchio tempo si era allungata con la mano e quindi per me era da annullare il gol ma il VAR ha decretato che era tutto regolare però non voglio attaccarmi alla polemica che il gol andava annullato o no perché noi abbiamo meritato di perdere perché Berardi si è mangiato tre gol di cui uno al primo tempo il portiere della Danimarca della Macedonia del Nord sul rinviu gliela lascia sui piedi la porta è spalancata e lui la diceva centrale nell'unico modo in cui il portiere della Macedonia del Nord poteva pararla un altro paio di azioni sempre Berardi ha sbagliato l'Italia non era in campo l'Italia non era in campo poi io devo dire una cosa molti chiederanno immobile ma per me non è colpa di immobile se l'Italia ha giocato così male perché immobile è un attaccante che gioca in profondità non puoi chiedergli di giocare spalla alla porta facendo il lavoro sporco cioè ed è assurdo perché perché secondo me Mancini avrebbe dovuto fare come come hanno come come è accaduto nel 2002 quando nel mondiale di Giappone e Corea del Sud Italia aveva un attaccante fenomenale come in profondità ovvero Bobbo Vieri e del Piero e Totti alle spalle giocavano per Bobbo Vieri tutta la squadra giocava per Bobbo Vieri ed è per questo che alla Lazio immobile segna così tanto perché perché è praticamente servito e riverito quindi quello poi è ovvio cioè Berardi quindi immobile non è tanto colpa sua perché comunque sì è vero molto spesso poteva segnare perché ci sono stati molti flipper nell'area di io da Macedonia Lord e noi non siamo riusciti a segnare con i centrocampisti con gli attaccanti eccetera ma vogliamo parlare del fatto che a un certo punto nel corso della partita immobile era esterno d'attacco perché non non c'erano spazi non si riusciva a giocare a calcio quindi quello la partita è cambiata quando è entrato Raspadori perché Raspadori l'ha cambiata la partita perché Raspadori ha entrato con la giusta cattiveria perché io nel pre-partita e nel comunque nel vivere questa partita io non avevo ansia perché ero sicuro e purtroppo mi sono sbagliato del fatto che solo uno come Mancini avrebbe potuto portare questa Italia nuovamente al mondiale perché Kuka aveva costruito una rosa forte una però alla fine in questa occasione mi sembra proprio vera quella frase di Spalletti che disse tanto tempo fa o molti anni fa in cui diceva uomini forti destini forti e uomini deboli destini deboli stasera l'Italia ha avuto uomini deboli i giorni dell'Italia sono stati uomini deboli non hanno lottato su ogni pallone non hanno lottato con la cattiveria che ha contraddistinto quella Italia che ha vinto l'Europeo io mi aspettavo quell'Italia è inaccettabile è inaccettabile questa cosa perché noi siamo la terza nazionale con più titoli la terza perché davanti a noi ci sta il Brasile che ha vinto 5 mondiali e diverse Coppe America poi davanti abbiamo la Germania che ha il nostro stesso numero di mondiali ma un europeo in più e poi ci siamo noi e noi siamo usciti nel 2017 contro la Svezia e adesso che la Macedonia del nord che per carità sì è una discreta nazionale era orfana delle sue due stelle della stella di Pandev e di Elmas cioè nel senso era non era non era con tutti i suoi effettivi e se sono usciti a portarsi a casa senza i loro effetti senza i loro due top player cioè significa che veramente c'è da lavorare 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 perché l'ultimo nostro mondiale è del 2014 cioè sappiamo tutti com'è finito è finito con che siamo usciti al girone con con Inghilterra Inghilterra Costa Rica e Uruguay e poi noi veniamo anche dal fallimento Euro 2012 in cui la Spagna ci distrusse 4 a 0 poi a Euro 2016 cioè avevamo visto un'Italia migliore ma noi non vinciamo un mondiale dal 2006 cioè il 2006 significa significa sì 16 anni significa cioè tantissimo tempo ma è ancora più grave perché l'Italia da campione d'Europa non è andata al mondiale e poi non era detto non era detto che se vincivi con la Macedonia al nord avresti andato al mondiale perché poi c'era lo spareggio col Portogallo e il Portogallo ha distrutto la Turchia che poi è crollata emotivamente perché a 7 minuti dalla fine ha sbagliato il rigore che avrebbe potuto portare la Turchia sul 2 a 2 e poi ha chiuso 3 a 1 il Portogallo ma io mi aspettavo una squadra che stile Bayern con Champions League con il Salzburgo cosa ha fatto il Bayern con il Salzburgo in Champions League a fine prima del tempo aveva vinto 4 a 0 a fine prima del tempo era 4 a 0 il Bayern Monaco io mi aspettavo una partita così che l'avevi chiusa nel primo tempo e poi e poi ti mettevi a palleggiare e io non è che avevo sottolato la Macedonia al nord fu probabilmente supervalutato la nostra nazionale perché non è possibile perché perché cioè non è possibile che Raspaduel dalla panchina si deve prendere sulle spalle la nazionale Chiellini dalla panchina si deve riprendere la squadra sulle spalle e Joao Pedro ha la sua prima presenza in nazionale italiana si deve prendere la squadra sulle spalle questa cosa è inaccettabile non puoi pretendere di non puoi pretendere che Joao Pedro te la risolve che Raspaduel te la risolve perché perché si sono fortissimi perché sono fortissimi perché sono fortissimi e l'hanno dimostrato in Serie A ma non possono non possono giocare da soli se non c'è squadra non c'è stato gioco non c'è stato gioco la Macedonia del Nord al sessantesimo intorno al sessantesimo si è messa a palleggiare a centro campo cioè stava facendo il possesso palla lo stava facendo la Macedonia del Nord non l'Italia cioè bisogna veramente vergognarsi di questa figura cioè è indegna cioè mettiamo veramente di essere presi in giro da tutti dai tedeschi dagli inglesi dagli spagnoli da da chiunque perché non puoi non puoi uscire con la Macedonia del Nord perché la Macedonia del Nord cioè se metto se confronto il centrocampo dell'Italia e il centrocampo della Macedonia del Nord il nostro è superiore ma è anche inutile confrontarlo perché noi abbiamo Verratti Giorginio e Barella cioè ma a parte Verratti che il centrocampo ha fatto di tutto e di più cioè Giorginio praticamente doveva impostare era il terzo di difesa che impostava perché salivano Palmieri e e Florenzi Verratti si è preso tanti falli come il Raspadore quando è entrato Giorginio ha cercato di pareggiarla ma ormai il danno era fatto quando tu non sei mai scesa in campo non sei scesa in campo e questa figura di merda cioè è inaccettabile questa figuraccia non è non puoi non puoi cioè nel senso è veramente veramente non ci sono parole cioè mi viene anche da piangere sono deluso sono arrabbiato perché cioè questa nazionale ci ha questa nazionale ci ha portato in paradiso il lo scorso luglio e adesso ci ha portato di nuovo all'inferno di non qualificarci al mondiale questa è una cosa assurda questa è una cosa inaccettabile cioè questo è il fallimento del calcio italiano cioè negli scorsi giorni si parlava di ospitare nell'Europa del 2032 che le candidate sono Italia e e e Russia la vedo veramente veramente male per il semplice fatto che questa nazionale ti fa innamorare cioè ti fa vivere emozioni assurde come la vittoria di un europeo e poi ti fa veramente tanto soffrire perché non puoi non puoi veramente andare al mondiale cioè nel senso una squadra che ne ha vinti quattro 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 mondiali quattro mondiali abbiamo vinto è vero molti diranno eh ma il mondiale del del 34 l'abbiamo rubato poiché si dice che Mussolini avrebbe disegnato gli arbitri questo questo può anche essere vero perché comunque il calcio in quel periodo era ed è come oggi è strumento di propaganda il calcio è sempre stato strumento di è sempre andato di pari passo con la politica ed è utilizzato come strumento di propaganda però questo è un altro discorso cioè noi siamo una nazionale che è vero abbiamo vinto quattro mondiali ma siamo una nazionale che veramente cioè noi abbiamo veramente tanto sofferto cioè noi abbiamo tanto sofferto siamo passati dall'inferno di perdere un mondiale del 94 con con il Brasile ai rigori per quell'errore di Baggio a perdere partite a essere poi la famosa la famosa episodio nel 2002 di Moreno cartellini rossi eccetera eccetera per far passare la Corea nel 2000 due anni prima grazie a Tolder eravamo arrivati alla finale degli europei che non l'abbiamo vinta perché la Francia era troppo forte nel 2006 abbiamo vinto il mondiale e quindi la gioia ma poi nel 2010 2014 il fallimento e adesso abbiamo toccato il fondo perché non puoi cioè non riesco a trovare le parole per il semplice fatto che cioè cioè noi siamo la nazionale che ha noi siamo stati una nazionale che che ha fatto la storia del calcio e un mondiale un altro mondiale senza Italia non è un mondiale cioè non è un mondiale cioè una competizione senza Italia non è una competizione e mi direte che non è vero ma la realtà è così perché una nazionale come l'Italia che l'Italia il fatto che l'Italia non è andata ai mondiali per la seconda volta è un altro problema dal punto di vista economico perché appunto tramite la qualificazione ai mondiali la FGC ovvero la federazione italiana gioco calcio si arricchiva anche la nazionale si arricchiva ma soprattutto il mondiale del Qatar che è stato fatto è esclusivamente per soldi perché come ricordiamo come sappiamo si gioca l'inverno dal 18 novembre al 18 dicembre si giocheranno poi in orari asturdi a mezzogiorno ore italiana alle 15 si giocheranno a orari comunque strani questa è e quindi è questa competizione che è stata fatta esclusivamente per soldi in Qatar perché le ultime due mesi sono state fatte per soldi del mondiale Russia perché perché c'è stata forte spinta degli oligarchi russi e è appunto spinta economica Qatar è stato fatto per soldi non dimentichiamoci che il giocatore sponsor di questo mondiale è Neymar che Neymar è arrivato al PSG perché il presidente del PSG gli ha dato i famosi soldi della clausa della recessoria e Neymar si è autopagato la clausa della recessoria e in campo il presidente gli ha dato gli ha detto che sarebbe diventato il giocatore simbolo di quel mondiale lo giocatore sponsor di quel mondiale e quindi dal punto di di sedirti tv ci perde di appeal un mondiale senza Italia perché perché è sempre l'Italia appunto per storia per e soprattutto c'è ma c'è questa cioè la la mia generazione quindi diciamo quelli del 2005 2006 l'unico vero e proprio trofeo che si ricordano è l'europeo vinto perché comunque nel mondiale 2006 chi era nato nel 2005 era comunque molto piccolo e non se lo ricorda perché anch'io oggettivamente non me lo ricordo poi mi sono andato a recuperare i vari filmati e tutto quanto quindi comunque poi l'ho visto quindi cioè ho visto tantissimi fallimenti ed è veramente impensabile cioè io non lo riesco a realizzare non lo riesco a realizzare al prossimo video non lo riesco a realizzare